Buonasera, inauguriamo questa sera un nuovo programma intitolato Perdenci, che raccoglie tutti gli appelli di coloro che hanno delle lamentere da fare, hanno subito dei torti e vogliono condividerli con noi e denunciarli qui da noi. Iniziamo questa sera con il nostro primo ospite, che ha scelto di rimanere nell'anonimato, così noi abbiamo provveduto a camuffarne i lineamenti. Il nostro primo ospite è un pelo di sopracciglio, ascoltiamo cosa ha da dirci. Buonasera, sono un pelo di sopracciglio. Il mio organismo ospitante era un medico brillantissimo, stava lavorando con grandi ottimi risultati, su un vaccino contro la morte, una mente brillante, un amante delle arti, una persona sensibile, finché, finché non lo vedi impugnare delle pinzette e i miei compagni cominciare a volteggiare per cadere lentamente all'interno del lavabo. Ho visto il volto del mio organismo ospitante mutare, dissolversi uno dopo l'altro le avanguardie artistiche del Novecento, l'illuminismo, il rinascimento e via via, al ventesimo pelo che si posava sulla bianca ceramica. Il volto era ormai tornato all'età del bronzo e sarebbe stato difficile fargli fare anche una semplicissima addizione. Allora il mio appello è basta pinzette, basta pinzette, basta pinzette, basta! Accogliamo quindi l'appello del nostro primo ospite, lo facciamo naturalmente nostro, e alla prossima puntata. Buonasera.